Cari amici, ringrazio il lettore Gianfranco perché mi ha inviato un'intervista realizzata l'anno scorso dal Tg3 Lazio al Cardinale Bertone, intitolata Dieci anni fa la rinuncia di Papa Benedetto, il nome di Bergoglio emerso prima del conclave. Interessante, interessante. Adesso ascolteremo le parole del Cardinale Bertone, ma prima di tutto vorrei ricordarvi che lo stesso, nato a Romano Canavese in provincia di Torino, fece i suoi studi a Roma dove ottene la licenza e il dottorato in diritto canonico, ripeto, il dottorato in diritto canonico, con una ricerca sul governo della Chiesa e il pensiero benedetto XIV. Leggiamo anche che ha collaborato all'ultima fase della revisione del codice di diritto canonico. Ripeto, ha collaborato alla revisione del codice di diritto canonico del 1983, quindi non poteva essergli ignota quella modifica del canone del codice di diritto canonico del 1917, il 221, che poi diventa il 332,2, dove si inserisce per la prima volta la necessità di rinunciare al munus petrino. Ecco, in questa storia del munus se ne parlava da parecchio tempo, ma di fatto nel codice di diritto canonico dell'83, il Papa per abdicare deve rinunciare al munus petrino. Adesso ascoltiamo cosa ci racconta il Cardinale Bertone di come è andata secondo lui la rinuncia ai Papa Benedetto. La decisione presa da Papa Benedetto sconvolse un po' tutti. Avevamo cercato di impedire in qualche modo di giungere a questa rinuncia. E poi quando la decisione era ormai irrevocabile abbiamo cercato in ogni modo di razionarla e di rinviarla il più possibile. In quel momento il camerlengo, che era sottoscritto con i camerari, salirono dal cortile di San Damaso alla terza loggia all'appartamento papale per apporre i sigilli. La dichiarazione di rinuncia porta alla data del 10 febbraio esattamente, quindi la vigilia della festa della memoria della Madonna di Lur. Ecco Eminenza, ma lei sa che una dichiarazione non ha alcun valore dispositivo. Lei è canonista, ha partecipato alla revisione del diritto canonico, quindi una dichiarazione in sé per sé non è un atto di valore giuridico. Lei sa che Papa Benedetto non ha mai ratificato questa rinuncia dopo le ore 20 del 28 febbraio, dopo che lei ha sigillato gli appartamenti apostolici? A lei quando lo comunicò la decisione di abbandonare il pontificato? Ecco la decisione a me la comunicò già niente meno che il 30 aprile del 2012, molto tempo prima. Io pensavo che fosse una nuvola di primavera, ho detto ma Santa Padre questo è un pensiero che lei è venuto e ne parliamo poi. Mi comunicò dopo il viaggio in Messico e a Cuba, dove aveva trovato qualche difficoltà di salute. Poi mi disse guarda, io credo che non ce la faccio più, io penso di dimettermi. Ecco, in questo viaggio a Cuba Papa Benedetto, in una lettera a Peter Sevald, l'abbiamo visto qualche giorno fa, ha affermato di essere caduto durante la notte e di non ricordarsi nulla. Devo aver urtato qualcosa in bagno ed essere caduto. E la mattina dopo si ritrova col fazzoletto pieno di sangue e non aveva, non si ricordava come fosse successo. Abbiamo visto che questo tipo di reazione può avvenire senz'altro per un sovradosaggio di sonniferi o una somministrazione congiunta di altri farmaci che agiscono sul sistema nervoso centrale. Questo non lo dice il sottoscritto, ma appunto farmacisti, farmacologi, anestesisti, medici internisti, che ho intervistato qualche giorno fa. Quindi sicuramente era un problema di salute, sicuramente era un problema di insonnia, ma non nell'accezione banalmente rassicurante propria del mainstream e che ci fornisce anche il Cardinale Bertone. Allora io rimasi stupito, colpito e gli dice il Santo Padre non provochi questa impressione, questo deperimento psicologico al popolo di Dio, per favore, ne parliamo poi dopo, ne parliamo poi in estate. Si intrecciarono naturalmente le opinioni, le valutazioni, eccetera, e si spostò il baricentro dall'eurocentrismo all'America del Sud, a quello che era tradizionalmente il continente cattolico, la scelta di Bergoglia, non un uomo di curia. Questo ragionamento venne fatto dentro la Sistina o già prima? Ah, beh, adesso questo, io credo prima, fuori dalla Sistina. Questo ragionamento venne fatto fuori dalla Sistina? Mmm, che vuol dire? Mmm, non è chiarissimo questo ragionamento. Perché è fatto fuori dalla Sistina? C'è l'Universi Dominici Gregis che prevede la scomunica all'atte sentenze per le manovre pre-conclave. Cioè, i giochi si fanno in Sistina, si fanno durante il conclave. Allora, il fatto che il nome di Bergoglio circolasse già fuori dalla Sistina, non capisco che cosa vuol dire sua eminenza a Bertone. Cari amici, ognuno si farà la sua idea. Ho trovato, in modo del tutto casuale, un video risalente al 19 luglio 2009, quando Papa Benedetto si ruppe il polso destro, ma si recò comunque al romano canavese, che è il paese natale del cardinale Bertone, a recitare l'Angelus. Ascoltiamo che cosa dice il Santo Padre. Cari fratelli e sorelle, in questa vostra terra, ricca di tradizioni cristiane e di valori umani, sono fiorite numerose vocazioni maschili e femminili, in particolare per la famiglia osalesiana, come quella del canale Bertone, che è nato proprio in questa vostra parrocchia, è stato batizzato in questa chiesa, e è cresciuto in una famiglia dove ha assimilato una fede genuina. Riascoltiamo un attimo. Dove ha assimilato una fede genuina. Beh, cari amici, che dire, in questo discorso Papa Benedetto incespica solo in questo punto, purtroppo con una piccola gaff, direi, perché dice dove il cardinale Bertone ha simulato, e poi immediatamente si corregge, dice assimilato, un'autentica fede, una fede genuina. Che sia stato un incespigamento del tutto involontario, che sia stato un lapsus freudiano, che sia stata una umoristica frecciata, frecciata, voluta, da Papa Benedetto al lì presente segretario di Stato, naturalmente è una cosa che non possiamo sapere. Diciamo che quello che nessuno ci vieta è farci un panorama, un panorama di contesto. Il panorama di contesto ci dice che il cardinale Bertone, canonista, sappiamo da Monsignor Genswein e da Peter Sevald, che ha ricevuto la declaratio e che ha fatto alcune precisazioni giuridiche. Non sappiamo che tipo di precisazioni giuridiche ha fatto su questa declaratio e pur essendo canonista non si è accorto come viceversa il più giovane canonista Do Stefano Violi in quello stesso periodo aveva eccepito, cioè che manca il richiamo al 332,2. Eppure il cardinale Bertone aveva partecipato alla revisione del diritto canonico nel 1983 dove si dice chiaramente che il Papa abdicatario deve rinunciare al munus pedrino. Beh, io mi fermo qui, ognuno si farà l'idea che ritiene opportuno. Ci vediamo il 25 a Catania e il 26 a Palermo con nomi Nutella. Un caro saluto a tutti.